Tutti contro tutti dopo la bocciatura dei conti della sanità morisana da parte del tavolo tecnico Giustini si tira fuori dalla contesa e fa capire che non c'entra nulla Federico attacca Toma i soldi della sanità sono della sanità dura replica del governatore parli di bilancio chi ne sa intanto si profila l'aumento delle tasse il blocco del turnore l'indicazione di Tramontano quale sindaco di Campobasso continua ad agitare il centrodestra le 15.30 in consiglio regionale riunione di maggioranza Niro rincarra la dose non accetto Dictat altrimenti vado da solo Toma prova mediale Antonio Battista Alberto Tramontano Angelo Sbrocca e Nicola Di Michele ospiti stasera di conto alla rovescia prima uscita ufficiale per i candidati sindaci di Campobasso Eterno a Campomarino la polizia sequestra beni mobili e immobili di un pregiudicato legato a clan mafiosi sull'asse Milano Molise gusto e creatività alla Confcommercio di Campobasso il corso di food design perché anche l'occhio vuole la sua parte e infine allo sport futsal lo sporting venafro si gode l'accesso al campionato di serie B il capitano Fabrizio Bagnoli incorona la società alla base dice dei nostri successi Buon pomeriggio buon pomeriggio bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso in apertura c'è la sanità ieri vi abbiamo dato la notizia della bocciatura da parte del tavolo tecnico dei conti del Molise con le dichiarazioni al vetriolo del presidente della regione Donato Toma ebbene è tutti contro tutti dopo il verbale del tavolo tecnico il commissario Giustini in qualche maniera si tira fuori dalla contesa e fa capire che non c'entra nulla mentre il deputato Federico attacca il governatore e dice i soldi della sanità sono della sanità mancano denari della fiscalità dura la replica di Toma parli di bilancio chi ne sa intanto si profila l'aumento delle tasse e il blocco del turnover come vi abbiamo riportato anche nel Tg di ieri ma vediamo il contributo Mentre il presidente della regione Donato Toma ed il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Antonio Federico sono in attesa di leggere i verbali il commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini se la cava con stiamo cercando di capire come evitare le conseguenze delle eccezioni avanzate dal tavolo tecnico che di fatto ha bocciato i conti della sanità molisana il cellulare del generale squilla vuoto Angelo Giustini dopo il vertice di ieri prima al Ministero dell'Economia e delle Finanze poi al Ministero della Sanità è rimasto nella capitale rientrerà in Molise lunedì ai federissimi avrebbe confidato che il periodo attenzionato dal tavolo il 2018 non lo riguarda direttamente nominato il 7 dicembre si è insediato poco dopo ha iniziato a lavorare concretamente da gennaio del 2019 per il commissario quanto deciso dal tavolo non dipenderebbe dal lavoro suo e del sub Ida Grossi ma dall'Aserem che ha gestito la sanità nel lasso di tempo che va dall'ultimo atto del commissario frattura alla nomina del successore Giustini appunto 8 mesi con la sanità molisana quasi fuori controllo e qui la responsabilità è chiara e riferibile al governo gialloverde che ha temporeggiato troppo e fatto la guerra a Toma rinviando continuamente la scelta in attesa di capire chi è responsabile di cosa si paventa l'aumento delle aliquote fiscali ed il blocco del turnover una mannaia per un settore quasi al collasso positivo il giudizio su Ilea le eccezioni del tavolo riguardano invece l'extra budget dei privati accreditati con un accantonamento di 15 milioni di euro altri 5 invece non sarebbero stati trasferiti dalla regione a l'Aserem secondo gli esperti romani dunque i conti non sarebbero in ordine con un disavanzo di 20 milioni di euro per Toma le osservazioni sono poco pertinenti incredibili mentre per Federico dal bilancio sanitario mancherebbero 7 milioni di euro di fiscalità le tasse dei molisani che la regione molise non avrebbe messo sui capitoli destinati al comparto sanitario una cosa che se confermata scrive il deputato sarebbe incredibile a quanto pare aggiunge il tavolo tecnico è stato costretto a ribadire l'ovvio e cioè che i soldi della sanità sono della sanità per Toma invece tutto falso parli di bilancio chi ne sa non prendo lezioni da nessuno replica duramente il presidente della regione intanto i molisani per altri 12 mesi saranno costretti ad elemosinare medici che non ci sono e a pagare una fiscalità maggiore a fronte di prestazioni in linea con il riordino di un comparto che da 10 anni è alle prese con debiti e inefficienze La prefettura di Campobasso ha ufficializzato il programma della visita del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che tornerà a Campobasso lunedì 15 aprile a mezzogiorno il premier nel salone d'onore della prefettura incontrerà il presidente della regione i sindaci dei comuni molisani i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del comparto economico e le organizzazioni sindacali in relazione al contratto istituzionale di sviluppo per il Molise per l'occasione l'amministrazione di Antonio Battista invita la cittadinanza a limitare proprio nella giornata di lunedì prossimo l'utilizzo delle automobili nel centro urbano a causa dei lavori di bitumazione che interessano il cuore del capolubo e quindi per la visita del presidente del consiglio dei ministri l'indicazione da parte di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia di Alberto Tramontano quale sindaco di candidato sindaco di Campobasso continua ad agitare il centro-destra alle 15.30 infatti questo poveriggio dunque in consiglio regionale è prevista una riunione di maggioranza Vincenzo Niro di Popolari per l'Italia rincara la dose dopo gli strali dei giorni scorsi non accetto di ICTAT dichiara altrimenti vado da solo toccherà al governatore Donato Toma provare e ammediare e a proposito di amministrative Antonio Battista Alberto Tramontano Angelo Sbrocca e Nicola Di Michele saranno ospiti questa sera della trasmissione Conto alla Rovescia a partire dalle ore 21 prima uscita ufficiale dunque per i candidati sindaci di Campobasso e Termoli Roberto Gravina è stato nostro ospite venerdì scorso mentre Francesco Roberti altro candidato sindaco di Termoli ha preferito per il momento prendere tempo e rinviare la prima ufficiale con la stampa ancora le amministrative avvocato 48 anni animalista e tra i fondatori di Oamo Campobasso Paola Liberanome è la candidata sindaco del movimento d'opinione che correrà da solo alle elezioni comunali del capoluogo di regione lasciamo la politica le amministrative parliamo di cronaca parliamo di un'attività del commissariato di polizia di Termoli con la squadra anticrimine il crimine che ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni mobili ed immobili nella disponibilità di un soggetto già detenuto in carcere per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti emesso dal Tribunale di Milano ai sensi della normativa antimafia i sigilli all'immobile sono scattati sia per la riconosciuta pericolosità sociale dell'uomo che per il requisito della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito da questi dichiarato oltre ad un immobile è stato sequestrato anche l'autovettura della persona e quattro persone sono state denunciate per vari reati la stradale di Isernia ha sequestrato un panetto di hashish proveniente dal Lazio e destinato al mercato Pentro gli agenti della Polstrada hanno individuato una Fiat Punto con a bordo tre persone di cui due minorenni provenienti dalla provincia di Frosinone i tre ragazzi non sono sfuggiti all'intuito degli operatori che dopo la perquisizione hanno rinvenuto il panetto di droga pronta per essere consumata e ceduta ad altri i successivi accertamenti della Polizia Stradale hanno rivelato che la droga posta in sequestro per un peso totale di oltre 40 grammi era stata commissionata per una festa privata programmata nel fine settimana al quale i giovani dovevano partecipare il minorenne in possesso della sostanza superfacente è stato denunciato al Tribunale dei minori di Campobasso cambiamo decisamente argomento parliamo di gusto e creatività alla Confcommercio di Campobasso il corso di Food Design vediamo i dettagli nel servizio che vi proponiamo a lezione di Food Design impiattare con gusto e creatività il corso di formazione di Confcommercio completamente gratuito e riservato agli associati e ai loro dipendenti il corso ha riscorso un grande successo e si è svolto martedì e giovedì presso la sede della Confcommercio di Campobasso rileviamo dal territorio l'esigenza di essere accompagnati in questi percorsi innovativi una formazione che non guarda soltanto alla quantità ma soprattutto alla qualità la possibilità di essere formati per offrire dei servizi in più innovativi diversi ai loro clienti al nostro territorio c'è stata una risposta importante importantissima abbiamo anche la seconda edizione che faremo il 7 e 9 maggio perché i nostri ristoratori in questa occasione hanno capito l'importanza di usufruire sul loro territorio nella nostra regione di una formazione di qualità che gli permette di coniugare il gusto delle nostre terre e dei nostri prodotti all'eleganza ai colori alla creatività per suscitare perché no quelle emozioni in più quando si serve un piatto corso realizzato in collaborazione con Archichef perché oggi anche l'occhio vuole la sua parte e il piatto è una composizione un'opera d'arte capace di coniugare gusto e bellezza l'occhio è importantissimo perché diciamo che un impiattamento in questo modo è il biglietto da visita che offriamo al nostro cliente nel momento in cui portiamo il nostro piatto per cui ovviamente un piatto in cui andiamo a curare l'estetica gli abbinamenti cromatici le disposizioni e le forme come in questo modo sicuramente sarà percepito anche molto più buono quindi diciamo cibo bello ma buono ovviamente la forma geometrica l'abbinamento dei colori perché un piatto bello e buono invita il cliente a tornare durante le lezioni lo chef molisano Mauro Inglese ha mostrato ai corsisti l'arte dell'impiattamento la tecnica con cui la materia prima di qualità viene valorizzata con piccoli accorgimenti che fanno la differenza chef cosa mi fa assaggiare? allora qui abbiamo geometria di un lombo praticamente è del lombo di maiale cotto a bassa temperatura poi abbiamo un cremoso a caciocavallo una patata viola mantecata delle chips di polenta e una crema una salsa allo zafferano senta la tendenza del 2019 se c'è una tendenza nuova? beh la tendenza io spero che tutti insieme cominciamo a lavorare per dare il meglio e come diceva appunto prima l'architetto il bello e il buono soprattutto bisogna unire qualità bisogna unire un po' tutte quante le diciamo gli assi in questo caso e insomma iniziare in effetti a progettare un piatto progettare una ricetta progettare un servizio progettare un impiattamento e iniziare ad avere quello che è un concept del locale cioè della serie dobbiamo iniziare a dire cosa vogliamo dare ai nostri clienti in aula 15 corsisti giovani e più esperti accomunati dalla passione per la cucina e dalla voglia di imparare nuove tecniche di impiattamento perché lo chef del nuovo millennio è anche un po' artista signora Teresa lei è uno chef di Campobasso partecipa a questo corso con l'obiettivo di migliorare l'impiattamento certamente perché anche l'occhio vuole la sua parte ed è importante quando uno presenta un piatto in un certo modo senta il suo cavallo di battaglia qual è? sono i piatti tradizionali del Molise che vanno molto infatti sono state anche in Francia a rappresentare il Molise e il piatto che va molto sono le zuppe le zuppe la pizza in minestra i piatti tradizionali del Molise senta e tradizione e innovazione possono essere coniugati sicuramente sicuramente a Termoli il centro riuso rifiuti elettrici vediamo di cosa si tratta nel servizio di Giovanni Cannarsa entro due mesi a Termoli aprirà il primo centro di riuso per i rifiuti RAE lo ha annunciato il sindaco Angelo Sbrocca che ha presentato un progetto dalla duplice Valenza da un lato quella ecologica e ambientale per il riciclo di rifiuti consistenti in apparecchiature elettroniche ed elettriche dall'altro si avvierà il reinserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità il comune adriatico infatti coinvolgerà nell'iniziativa la cooperativa Il Mosaico è un progetto sperimentale di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico perché ci occupiamo di quest'area di intervento perché la cooperativa Il Mosaico dal 1996 l'hanno inquestata costituita che opera a favore dell'inserimento lavorativo o meglio l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità psichica e questo progetto è una nuova sfida che ci poniamo per assicurare un percorso riabilitativo attraverso l'inserimento lavorativo e per questo abbiamo pensato all'ecocentro Città di Termoli che è un luogo quindi ci siamo posti di duplice finalità uno quello sociale quindi favorire l'inserimento sociale e lavorativo di persone che a volte non hanno la possibilità di avere un'opportunità lavorativa in modo semplice ma hanno sempre bisogno di essere accompagnati in questo percorso dall'altro è quello di anche un beneficio ambientale perché ci siamo inoltrati nella pratica dell'importanza della pratica del riuso e quindi pensiamo che sia un'ottima occasione anche per la cittadinanza per portare una conoscenza di questa pratica oltre al comune di Termoli e al mosaico sono coinvolti anche la Corp Phoenix e il centro di salute mentale ancora una volta siamo qui onorati di essere stati coinvolti dall'amministrazione comunale dalle istituzioni perché i nostri utenti possano essere inseriti in programmi di lavoro al di là di questo questo aspetto qui è particolarmente importante perché credo che abbia a che fare con lo stigma ma perché oltre a lavorare noi abitualmente sullo stigma sul pregiudizio siamo quasi in un paradosso dove i pazienti psichiatrici che sono oggetto di stigma di pregiudizio abitualmente vengono impegnati in qualcosa dove la popolazione in genere deve essere particolarmente stimolata ad essere virtuosa diciamo che loro lo sono naturalmente hanno un'abitudine a lavorare ad essere stimolati da noi rispetto a questo discorso e adesso hanno proprio l'opportunità di trasformare quelle che sono esercitazioni o lezioni o psicoeducazioni in qualcosa che è produttivo e finalizzato all'inserimento lavorativo lavoro in corso a Ripa Limosani per l'abbattimento delle barriere architettoniche riflettori puntati sul centro storico che a causa di scalinate e vicoli stretti crea disagio a chi ha difficoltà a camminare o a chi deve muoversi in sedia a rotelle con un avanzo di amministrazione siamo riusciti a realizzare l'obiettivo con fondi interni che prima non erano sufficienti riferisce il sindaco Michele Di Bartolomeo si tratta di lavori di adeguamento attraverso scivoli che permettono di superare i gradini e rendere agevole il passaggio di mezzi lavori quasi al termine che riguardano sia il Borgo Antico sia il resto del paese come si evidenzia da questa immagine serata culturale in municipio a Isernia ieri dove è stato presentato Miriam il libro di Luigia Altopiedi vediamo il servizio realizzato da Nicola De Santis Nella sede del comune di Isernia è stato presentato Miriam il libro di Luigia Altopiedi edito da L'Erudita l'autrice ha voluto analizzare la vita di Maria attraverso l'analisi di documenti storici per svelarne l'umanità con la narrazione di vicende reali sconosciute e per questo forse ancora più interessanti Miriam lei è la Madonna Miriam è il suo nome di origine noi poi ha tradotto nella nostra lingua di Santa Maria ed è una ragazza semplice come tutte le donne insomma l'idea nasce da questo da voler realizzare un libro raccontare un libro diario in cui la Madonna si racconta da sola e racconta tutta la sua storia con tutti i particolari relativi ad una vita che noi non conosciamo perché in tutti i momenti religiosi nelle Sacre Scritture noi abbiamo l'immagine della Madonna che ci viene presentata solamente quando riceve la notizia dall'angelo all'annunciazione nella grotta vicino al bambino dopo la nascita e sotto la croce vicino al figlio ucciso poi tutto il resto della vita della Madonna noi non lo conosciamo e quindi abbiamo l'idea di questa figura divina piovuta dal cielo di cui non che non riusciamo ad amare a livello umano intendo perché non conosciamo la sua vita vera ed è questa una sorta di riparazione a questa ingiustizia che io ho voluto offrirle a relazionare padre Nazario Vasciarelli e l'avvocato Duglio Vigliotti accanto all'autrice anche il pittore Ron Di Scienza che ha realizzato l'immagine della copertina del volume ospite musicale è stata la Etno Band Il Tratturo l'evento è stato organizzato dalla cooperativa Il Geco e dall'associazione Etcetera con il patrocinio del comune della provincia di Isernia Luigia Altopiedi ha spiegato ai presenti che nel libro c'è pochissimo spazio per la creatività e che ogni pagina deriva da uno studio approfondito di Maria come donna non solo come madre di Gesù molto poco di creativo per la verità ho studiato molto prima di anche perché non era un personaggio qualsiasi con il quale mi potevo prendere la licenza poetica insomma stiamo parlando della Madonna e quindi dopo anni di studio di scritture diciamo canoniche e apocrife quelle parlo dei Vangeli insomma dei tanti Vangeli ho scoperto molti lati della vita della Madonna che andavano raccontati perché è una donna che ha lottato una donna che ha sofferto che ha fatto sacrifici che ha lavorato una donna lavoratrice con i calli alle mani insomma cose che noi diciamo dalla Chiesa dalle parole liturgiche non abbiamo scoperto fino in fondo audacia serietà attenzione dal cliente ecco gli ingredienti del successo di una famiglia di imprenditori che cresce e continua ad espandersi a campo basso Zarrilli ritocca e migliora il punto vendita di via in sorti d'Ungheria questa mattina l'inaugurazione seguita per noi da Cristina Niro vediamo il contributo sono tra i pochi imprenditori che hanno preso la vita a quattro mani con coraggio e che nonostante le difficoltà dovute al momento economico italiano agli alti e bassi di un mercato in continua evoluzione sapendo rinunciare al superfuo hanno poi tracciato il solco del successo è la storia della famiglia Zarrilli di Campobasso iniziata con lo storico punto vendita in via Garibaldi è diventata con il tempo una famiglia di imprenditori di successo nel campo degli elettrodomestici dell'elettronica della telefonia della fotografia e di tutto ciò che riguarda la casa quindi la crescita l'apertura di expert in via in sorti d'Ungheria scommessa risultata poi vincente che è nata da uno studio approfondito fatto sui bisogni della gente e del mercato e senza mai stancarsi analizzando i bisogni di tecnologia di modernità sia a livello pubblico che privato la necessità di garanzie e attenzione che il consumatore sempre più attento e scrupoloso richiede la famiglia e Zarrilli è andata ancora oltre questa mattina è inaugurato un locale rinnovato nell'offerta e nella disposizione accattivante e seducente abbiamo deciso di rinnovare questo punto vendita aperto cinque anni fa perché vogliamo dare al cliente un'esperienza di acquisto più concreta facendo provare ciò che acquista che cosa è cambiato? abbiamo cambiato la parte di tv riducendo un po' gli spazi ma mettendo i prodotti giusti e abbiamo rinnovato la parte dell'informatica del bianco e della telefonia una famiglia che guida il settore da tre generazioni Francesco Zarrilli figlio di Tommaso e nipote del capostipite ha le idee chiare per continuare con successo sulla strada intrapresa e senza remore ne freni ammette anche le possibilità occupazionali offerte finora e che ci saranno nel prossimo futuro al momento abbiamo 14 collaboratori e siamo intenzionati ad ampliare ancora di più la nostra famiglia soddisfazioni e certezze non mancano ma come ogni imprenditore è palpabile la voglia di altri cambiamenti ed evoluzioni d'altronde tra le corsie del centro di via in sorti d'Ungheria le capacità non mancano la forza e il desiderio di una crescita vera pure questa è insomma la storia della famiglia Zarrilli imprenditori di successo passati da un piccolo negozio a grande azienda bene ora vediamo che tempo farà nelle prossime ore con il meteo previsioni del tempo di venerdì 12 aprile la bassa pressione resta attiva portando ancora condizioni di tempo instabile sulle regioni del barso versante adriatico con cieli regolarmente nuvolosi e ancora occasione per piogge e temporali specie nella seconda parte del giorno temperature minime in aumento massime in calo venti deboli o moderati mare mosso le temperature campo basso minima 5 massima 10 gradi isernia 613 termori 715 venafro 716 bene tutto per questa edizione la nostra informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante restate con noi tra pochissimo davvero tra pochissimo la pagina sportiva con calcio e futsal in apertura c'è il calcio di Seredì c'è il campo basso che domenica allo stadio Romagnoli affronta il Castelfidardo ultima della classe del raggruppamento F per la formazione rosso-blu la ghiotta occasione per tornare al successo pieno dopo due pareggi consecutivi contro Cesena e Olimpia agnonese non bisogna disperdere l'entusiasmo creato nelle domeniche precedenti per questo motivo il campo basso deve giocare una buona partita e ottenere l'intera posta in palio anche perché come dichiarato dal patron dal presidente Nicola Circelli le ultime quattro di regular season serviranno anche per valutare complessivamente il gruppo e decidere da chi ripartire la prossima stagione con l'incognita tuttavia tra la Serie D e la Lega Pro ed è attesa da un derby da dentro fuori l'Isernia che domenica allo stadio l'Ancellotta affronterà l'Olimpia agnonese Valentina Ciarlante a poche ore dall'importantissimo impegno ha ascoltato le impressioni del dirigente Gianni Di Florio sentiamo Gianni Di Florio dirigente dell'Isernia FC a pochi giorni dal derby salvezza con l'Olimpia agnonese com'è il clima nel gruppo? Il clima è sicuramente molto alto siamo bene fisicamente siamo al completo siamo carichi lo saremo ancora di più domenica in vista di questa partita importante che purtroppo metterà di fronte due squadre molisane non solo ma anche della stessa provincia questo purtroppo è il calcio la classifica dice questo sarà una sfida importantissima per entrambe noi ovviamente vogliamo solo la vittoria questo è chiaro quindi saremo carichi pronti cattivi al punto giusto per quanto riguarda a livello sportivo sicuramente ci sarà un clima caldo ma è giusto che sia così sarà una partita senza sconti per nessuno insomma? assolutamente no noi non vogliamo e non dobbiamo fare sconti a nessuno oramai sono già due partite se mettiamola anche quella con il Castelfidardo purtroppo è andata male quindi sono tre partite che per noi sono di vitale importanza come lo saranno le successive tre quindi non bisogna perdere assolutamente punti e bisogna lottare fino alla fine per cercare di salvarsi se ci riusciamo in maniera tranquilla altrimenti il play out è l'obiettivo secondo e quindi è da fare in casa assolutamente ci sono ancora speranze di salvezza diretta quindi bisogna crederci di Florio assolutamente sì ci sono ancora delle speranze perché la matematica ancora non condanna nessuno per la salvezza diretta ci sono altre tre partite oltre questa con l'Agnone importantissimi da giocare due trasferte più un'altra in casa quindi bisogna raccogliere il massimo dei punti e poter sperare anche che in questo caso la prima che sarebbe il Giulianova se non sbaglio è a quattro punti magari riesce a fare qualche passo falso per cui potrebbe essere riagganciata per concludere un appello che vogliamo fare alla città appunto mancano quattro partite il momento è delicatissimo c'è alle viste un derby che cosa vuole dire a tutta la comunità non solo ai tifosi agli appassionati ma anche magari a chi ancora non si è avvicinato a questa causa io dico di venire numerosi al campo di incitare la squadra una società che come come poche volte si è vista guidata da gente di Sernia quindi da imprenditori di Sernia da gente che fa come dire della passione e dell'amore per questa squadra e per questa città dei grossi sacrifici e quindi io spero che vengano tante persone e spero sia allo stesso tempo anche una giornata di vero sport Ora il futsal perché lo Sporting Venafro si gode l'approdo al campionato di Serie B il capitano Fabrizio Bagnoli ospite di Molise Sport ieri sera in Corona la società alla base ha detto dei nostri successi sentiamo uno stralzo del suo intervento un'altra componente fondamentale per ottenere un successo l'importante è quello societario la società non vi ha fatto mancare assolutamente nulla? No guarda sì societario io lo sai la chiamo squadra invisibile la chiamo squadra invisibile perché siamo noi poi che il sabato andiamo in campo e prendiamo l'applauso dei tifosi e della gente che per fortuna quest'anno ci ha seguito in massa ma senza la squadra invisibile non si vince nulla la squadra invisibile sono i dieci dirigenti che abbiamo da partire dal presidente fino al nostro magazziniere che è Emanuele che fa parte proprio di noi Ernesto Scorpio Ernesto Cartarelli oddio se li dico tutti penso non finiamo più Edoardo senza di loro non si vince credimi io ho vissuto anni ho fatto sei anni di B ho fatto la 2 qui col CUS ottime organizzazioni ma una squadra così organizzata in C1 non l'ho mai vista ce l'hanno anche detto gli altri avversari che abbiamo avuto durante l'anno che si vedeva un'organizzazione veramente all'altezza anzi sicuramente di categoria superiore loro sono stati la nostra arma in più perché sai sopportare 20 giocatori non è per niente facile e loro sono stati veramente la nostra la nostra arma in più e come li chiamo io la squadra invisibile è stato il nostro motore senti il presidente Gianluca primavera un vulcano in continua eruzione va bene questa definizione bravissimo non potevi trovare definizione migliore lui è partito con questo progetto per venafro perché lui è un venafrano ha la famiglia venafrana e come avete sentito il dottor Bianchi è suo suocero quindi è abbastanza vive tutti i giorni la quotidianità di una famiglia unita e di una famiglia che sente la propria venafranità e loro molto presenti anche su territorio assolutamente sì persone soprattutto di grande rispetto e rispettate loro fanno tutto questo per Venafro e per i ragazzi di Venafro e soprattutto scusami se aggiungo questo pezzo per i bambini di Venafro perché lui ha fatto la scuola calcio che è stata gratis addirittura fino a dicembre quindi ha lasciato tutti i bambini lì noi avevamo 70 iscritti venivano al campo il sabato è stata per noi una cosa bellissima e lui fa questo per Venafro per il futuro di Venafro e adesso ha altre mille idee non si ferma mai io gli dico sempre rallenta un po' ma lui è un treno in corsa difficile da seguire è già partito ancora il Futsal una notizia di mercato del circolo la nebbia Cusmolise che è riuscito a confermare Barichello arriva dunque il rinnovo per il fenomeno di Santa Catarina che dopo i due anni già passati con la casacca di Campobassani questa mattina ha rinnovato con il club del capologo di regione complimenti dunque per questo colpo del circolo la nebbia Cusmolise ora un po' di schermate vediamo il programma del campionato di promozione ventottesima giornata si giocano domani Baranello Ururi e Ripalimosani Trivento sabato 20 aprile invece Bicca di Comprensione Vairano tutti gli altri match regolarmente domenica il basket di serie 2 femminile il raggruppamento sud in campo domani pomeriggio la Magnolia a Campobasso contro Selargius si parla della si tratta della ventisettesima giornata le altre gare si giocano sabato ad eccezione di Elite Roma La Spezia e Atena Roma Umbertide che si disputeranno invece domenica per la pallavolo di serie B1 femminile il raggruppamento di ventiquattresima giornata impegno in esterna per l'Europea 92 Isernia Santa Teresa di Riva ventiquattresima giornata dicevamo 21 invece le giornate per il campionato di futsal di serie B il girone D tiene banco il super derby siamo al campionato di futsal di serie B eccola qui la schermata terra banco domani pomeriggio il super derby tra circolo la nebbia Cusmo Rise e Chaminade derby tutto campo Balsano bene è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto e arrivederci a